Abbiamo l'opportunità di raccontare che cos'è il nostro campus a Novazza. Matteo? Il campus è una casa dove vengono dei ragazzi con i problemi di DSA, che si divertono e intanto imparano come usare il computer meglio e come fare meglio la grammatica. Ci puoi fare qualche esempio Fabio di come vi è utile il computer, la multimedialità per studiare meglio e con meno fatica? Se c'è un tema da riassumere si può fare nel computer che forse è più divertente invece che scrivere e poi ci sono diversi programmi che se qualcuno non riesce tanto a leggere, c'è tipo leggere il computer. Ho capito. I tuoi amici Giulia parlano anche di tanto divertimento. Com'è organizzata la giornata del vostro campus? Facciamo dei laboratori e io vi voglio parlare del laboratorio di musica, che ci divertiamo molto con il nostro insegnante Alfredo, che ci insegna a usare certi strumenti e che non sapevamo neanche l'esistenza. Ci sono altri laboratori in questo campus? Sì, ci sono altri laboratori tipo il teatro, quello multimediale che si usa, i computer oppure c'è un basso. Ho sentito parlare anche di una radio del vostro campus, è vero? Sì, nel teatro ci registrano delle scenette e ce le mette sul canale. Sul blog. Sul blog del nostro campus. Bene, grazie ragazzi e salutiamo Antena 2 e ringraziamo per questa opportunità. Ciao! Siamo adesso con un altro gruppo dei ragazzi che hanno appena finito l'esercitazione e che ci faranno capire il nostro campus, come funziona. Che cosa vi è piaciuto in particolare del campus fino ad oggi? A me è piaciuto molto il lavoro con Davide, ai computer, dove abbiamo parlato di questo incendio, di questo contadino e gli abbiamo dovuto mandare dei rinforzi per aiutarlo a spegnere l'incendio prima che bruciasse altre sei villette un intero bosco. Quindi delle vere e proprie simulazioni ed esercitazioni. E una cosa che ti è piaciuta in particolare del campus? Fare il laboratorio di teatro e soprattutto l'esercizio dove dovevamo fidarci del compagno. Un altro esempio di cose belle del campus? A me è piaciuto particolarmente il laboratorio di musica perché c'erano tantissimi strumenti diversi e alcuni che proprio non conoscevo. Quindi mi è piaciuto molto. Va bene, adesso salutiamo tutti assieme anche i volontari che invito a venire qui e che ringraziamo, che ci hanno ospitato e fatto fare questa bellissima esperienza. Grazie a tutti i volontari di protezione civile, croce blu, pubblica assistenza. Grazie a tutti. Arrivederci.